Il simbolo per eccellenza della tradizione natalizia napoletana quest'anno sarà al centro di una competizione tra le diverse municipalità del territorio. Prende il via la prima edizione del Palio dei Presepi e l'originale iniziativa promossa dal consigliere Carmine Attanasio che coinvolgerà associazioni, comitati, parrocchie e privati in rappresentanza di 23 quartieri della città. Valorizzare l'artigianato, mettere in gara i quartieri hanno risposto in 23, partiamo bene, è una bella iniziativa che vuole mettere assieme i quartieri e fare gara. È un'iniziativa che mancava a Napoli e che finalmente abbiamo e che l'anno prossimo sarà ancora più bella. Ciascuno realizzerà un presepe che resterà esposto al pubblico dal 1 dicembre al 6 gennaio e sarà valutato da una giuria di otto componenti presieduta dal maestro presepiale Marco Ferrigno. I vari quartieri che compongono questa città, ognuno di loro avrà la possibilità di esporre un proprio presepe e noi come giuria, di cui io sono il presidente, faremo diversi sopralluoghi, visiteremo un po' queste cose e valuteremo l'eventuale vincitore. In Palio c'è un premio di 9.000 euro messo a disposizione dagli sponsor che hanno risposto all'apposito bando pubblicato dal Comune. Ad aggiudicarselo sarà il presepe che più di ogni altro riuscirà a trasmettere, emozionando, i valori della natività che da 2.000 anni rappresenta. Il presepe vincente sarà poi esposto per tutto l'anno nella chiesa di San Severo al Pendino in Via Duomo. Se Napoli è tra le città più famose al mondo e più conosciute al mondo lo è per tanti motivi ma lo è anche grazie molto al presepe. Il presepe è Napoli, il presepe è Napoli per come si articola, per come è rappresentato, nei dettagli, nel fatto che è multietnico, è pace, è solidarietà, è amore, è la natività ma anche la vita, la vita di una città che ha radici profonde. Quindi con questa iniziativa noi diffondiamo la Napoli che amiamo nel mondo. Grazie a tutti.